Da lunedì 4 maggio inizia la fase 2 e non facciamo scherzi, non è un liberi tutti, anzi è ancora più complicato della fase 1 perché adesso fino ad oggi siamo rimasti in casa e le nostre difficoltà erano molte ma sicuramente inferiori a quelli che vivremo nelle prossime settimane. Dovremo rispettare tutte le regole, in particolare indossare le mascherine quando stiamo al chiuso, lavarci spesso le mani, non accorciare troppo la distanza, evitare assembramenti, non fare riunioni d'ufficio dove ci si accalca, soprattutto non uscire di casa se non è assolutamente necessario. Avete delle possibilità in più, c'è anche qualche momento di piccolo svago, piccole manutenzioni, ma non ne abusate, per favore, non ne abusate. È per questo che stiamo distribuendo, soprattutto per chi non ha la possibilità di acquistarle, un milione e mezzo di mascherine che attraverso i COC, che sono i centri operativi della protezione civile dei comuni della Puglia, verranno distribuite secondo le stesse liste, gli stessi criteri con i quali sono stati distribuiti pacchi alimentari. In questo modo consentiremo a tutti di poter frequentare uffici, di poter accedere alle necessità della vita senza eccessive limitazioni. Questa è una prima ondata di mascherine, quelle che pensiamo di dover giustamente distribuire direttamente, senza sprechi, senza rischiare di darle a chi può tranquillamente acquistarle, a chi invece ha bisogno di riceverle gratuitamente. Insomma, dal lunedì 4 maggio ho bisogno ancora di più della vostra collaborazione. Siete stati bravissimi fino ad oggi, ma sono certo che farete vedere a tutti quanto sarete bravi anche nella fase 2.